Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Per la notte di Halloween Chiara Ferragni ha scelto di imitare Sharon Stone in una delle scene più famose del cinema, Basic Instinct. Il siparietto 8 non è piaciuto a tutti sui social si è scatenata la polemica. La Ferragni quindi ha pubblicato un video in cui imita il gesto provocatorio di Sharon Stone in cui l'attrice americana durante un interrogatorio incrocia le gambe rivelando a Michael Douglas e a tutti i presenti che non indossa le mutandine. Volevo omaggiare questo momento epico, ha scritto l'influencer, ma non tutti hanno gradito la sua imitazione giudicandola volgare. Non le arriva nemmeno alla caviglia Sharon Stone, dice un utente. Ha mostrato tutto, aggiunge un altro utente. Qualcuno scrive e lei la cavallava con disinvoltura senza risultare volgare. Non c'è paragone. Alcuni le suggeriscono addirittura di crearsi una pagina su Allifans. Il video senza biancheria intima è opportunatamente censurato con i pixel nelle parti intime, però ha avuto un grande successo e si è diffuso rapidamente sul web, ricevendo anche molti complimenti dai follower della nota imprenditrice. Insomma, la Ferragni ha centrato il suo obiettivo di far parlare ancora molto di sé.